La prima mossa del governo Meloni sul fronte migranti è un alto là posto ieri a due navi di ONG norvegese e tedesca impegnate nel Mediterraneo, la Ocean Viking e l'Humanity One, e porta la firma del neoministro dell'interno Piantedosi di Intesa con la Farnesina guidata da Tajani. La direttiva in questione dice che le condotte delle due navi con un totale di 326 migranti a bordo già soccorsi non sono in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione legale, di lì il divieto di ingresso nelle acque territoriali. Il documento rispecchia quello emanato nel marzo 2019 dall'allora ministro dell'interno Salvini quando Piantedosi era capo di gabinetto e al dubbio legittimo che possano tornare i porti chiusi, Piantedosi risponde con un laconico, vedremo, anche se aggiunge, la salvezza delle persone e l'approccio umanitario vengono prima di tutto. C'è da augurarselo perché l'emergenza sbarchi non si ferma. Ricordiamo che sabato scorso i cadaveri di due bimbi di pochi mesi sono stati trovati su un barcone soccorso dalla Guardia Costiera al largo di Lampedusa e in queste ore due gommoni con circa 1300 persone sono in difficoltà tra Sicilia e Malta, segnala l'Armfon.